Il nulla osta per restituire la salma di Pamela Mastropietro ai familiari per la sepoltura ancora non c'è, lo ha affermato lo zio della ragazza che è anche illegale della famiglia Mastropietro dopo aver raggiunto ieri macerata. Probabilmente si dovrà procedere ad ulteriori esami, dopo che gli accertamenti fatti sui prelievi dell'autopsia hanno fatto prendere corpo all'ipotesi della violenza sessuale e del successivo omicidio, in particolare in riferimento a tracce di liquido seminale, riconducibili non ad un unico soggetto. Pamela è stata uccisa, ha detto l'avvocato Verni, fratello della madre della ragazza. Su questo ormai sembrerebbero non esserci più dubbi. Intanto emergono nuovi particolari circa il passato dei tre arrestati. Dino Sento Segal si sa che prima di arrivare in Italia faceva il decoratore per una ditta di Doha, di Desmond Lucky, che stava partecipando a un progetto di accoglienza e che era ospite dell'associazione Perigeo, dopo aver vissuto prima a Benin City e poi a Caduna, prima di salire su un barcone per l'Italia. Il terzo, La Chiave Lima, è anch'esso il richiedente asilo, arrivato in Italia nel 2016 ad Augusta, dopo essere stato recuperato da una carretta del mare. Nel frattempo il clamore mediatico sulla terribile vicenda non sembra placarsi, tanto che negli ultimi giorni sono apparsi articoli su testate giornalistiche nazionali che descrivono Macerata come capitale dello spaccio di eroina, dove la mafia nigeriana la fa da padrona. Una immagine questa che non corrisponde al vero e se da un lato è giusto non chiudere gli occhi, tenere altissima l'attenzione e non sottovalutare i problemi, dall'altra c'è una città e un territorio che a essa fa riferimento che non meritano di apparire per quello che non sono.